Everton Celtic, quarti di finale di Wall Street, gara secca. Perfetto, stai perfetto, stai perfetto. No, no, no no! No, no no! bravo vieni bravo non ne posso pure camminare bravo vai solo vai solo vai solo vai solo vai vai grazie 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 1 2 1 bravo 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 No, 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 no! 3 minuti 3 minuti Merto Salas Buonassi di Dalletri Alla 1 milio Alla Massa Getsella Alla 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 唉 I I Alla Alla So So 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 6 5 Siamo qui con Alessandro e con Marco, rispettivamente capitano e portiere dell'Everton che stasera premiamo come guanto d'oro del girone Wall Street di calcetto. Ecco il premio, complimenti per le prestazioni. Domanda veloce, c'era qualche portiere che ritenevi alla tua altezza, c'hai qualche nome che... Due molto bravi, quello del Fenerbahce, quello del Parasensaquanti e quello dell'Occettino. Questo qui che è appena uscito, Francesco D'Achille e Daniel Testoni. Va bene, c'hai qualche prospettiva per l'eliminatoria? Passa e andiamo al Palazzetto. Giusto, giusto, andiamo al Palazzetto, giusto, giusto. Va benissimo, molto probabilmente sarà il Celtic il vostro avversario. Come lo vedete? Corrono. Eh sì. Lo vedete, sì, lo vedete bene. Eh sì. D'accordo. La squadra è al completo. Beh sì, ci avrete sì, ci sarà Luca, ci sarà... Politano, ci sarà Proietti, insomma. C'è stanno, c'è stanno. Va benissimo, ringraziamo Marco Pacilli, fa vedere il guanto d'oro. E complimenti per un applauso da parte di tutti. Grande, ciao Marco, ciao ciao.